Francesco M. su Facebook. 22 gennaio 2017 alle ore 10 e 44, si accorgeva che in molti da un anno all'altro gli ripetevano le parole della sua ex moglie, cioè che il mondo era cambiato e bisognava adattarsi. Ma lui si chiedeva cosa volessero dire queste parole. Guardatelo. Diceva. Guardatelo, il nostro povero boy a mondo. Adattarsi a chi? A cosa? Queste sono le stesse cazzate che i signori ripetevano al tempo del fascismo, compagni. Le stesse cazzate che i padroni ripetono da secoli ai lavoratori. Ai poveretti. Agli sfruttati. Aprite gli occhi. Non c'è storia. Nessuna evoluzione. L'uomo è la bestia malvagia e assassina di sempre. E se qualcosa è cambiato è solo il peggio? Diceva Libero. E gli ideali comunisti rimangono i più validi che io conosco. E allora io non vi capisco. Io non mi vergognerò mai di essere un comunista, compagni. Io mi vergogno solo della vostra vergogna. Io non mi vergogno solo della vostra vergogna. Grazie a tutti.